Carissimi amici Shavua Tov, siamo un giorno prima della fine del concorso, il primo concorso nazionale di poesia per la Shoah. Ho scritto tantissimo e ci sono un paio di cose da dire. Io ovviamente mi sono buttata in questa cosa con tutte le forze, con tutto l'amore, perché per me personalmente è una cosa molto, molto, molto importante. Le persone che mi seguono, gli amici, poeti, scrittori, tutti pensavano che è una idea, un fare abbastanza importante, ma non penso che nessuno ha pensato quanto importante e quanti poeti e quante scuole e quante persone vanno a veramente partecipare. Io ho parlato con tantissime persone che volevano informazione, ovviamente c'era il mio numero di telefono, allora hanno chiamato a me e nel parlare ho scoperto delle cose molto, molto, molto interessanti. e ho scoperto che ci sono tanti giovani che veramente non hanno nessuna idea che cosa è la Shoah, non hanno nemmeno una idea che cosa vuol dire antisemitismo e non hanno una idea di quello che è un periodo non così tanto lontano, stiamo parlando di 72, 75 anni, a vita della nonna, ok? e non hanno la minima idea e nel parlare mi sono reso conto che persone hanno una idea di che cosa è un ebreo ma non hanno una idea di che cosa vuol dire ebreo ortodosso, che cosa vuol dire Torah, che cosa vuol dire imparare anche dal punto di vista storico, che cosa vuol dire ebreo ortodosso, che cosa vuol dire ebreo ortodosso, quando si parla di Kabbalah, allora di Kabbalah sono tutti tutti, sono i numeri e sono questo e sono cose che si deve fare, alla Madonna, alla Madonna va con un rosso, allora si deve andare con un rosso, ma che cosa vuol dire Kabbalah, di dove viene, che cosa sono le verità della Kabbalah, la istruzione della Kabbalah, la istruzione della Torah, niente, ma niente, allora come è possibile di essere un antisemita se tu non hai una idea che cosa è un ebreo e come tu puoi essere una persona che è anti-ebrei se non hai la medesima idea che cosa è. e ho parlato con un paio di insegnanti in Puglia, a Roma, che mi hanno chiamato e hanno detto che nelle loro scuole sono impostati dei programmi e mi devono venire oggi domani una cinquantina, sessanta poesie di bambini delle scuole, due scuole a Roma. E allora ci sono delle persone, delle insegnanti individuali che hanno un volere, un feeling, una ragione perché vogliono imparare e vogliono insegnare, ovvio. io ho la mia grande amica Simona Silitano, sta lavorando con bambini di 7, 8, 9 anni e io ero a questa sua scuola, sono tre anni adesso che ho fatto una giornata intera con 350 bambini, ma ogni anno lei insegna ai bambini le cose che succedono nell'ebreismo come adesso abbiamo avuto la festa di Purim. La festa di Purim è una cosa istorica, non è una festa dove si mette le maschere e si mangia hamantashen e si fa una grande festa e si si umbriaca. Si deve capire e si deve sapere e si deve insegnare. E una delle cose dentro la Kabbalah, nella porzione di oggi e ne parliamo fra poco, parla esattamente di quello che è il dovere di un ebreo. non tutti sono insegnanti, non tutti hanno la capacità di trasmettere, ma ognuno ha la capacità di essere. e quello è una cosa molto importante perché se tu sei in verità quello che tu fai bla 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 fuori, e allora il tuo compito è molto diverso di quello che è una persona che lo fa per i motivi suoi. ci sono i motivi diretti da Dio, da Hashem, non è un discorso che io posso decidere che cosa è l'ebreismo. abbiamo una Torah, abbiamo una Torah, abbiamo Kabbalah, abbiamo profeti, abbiamo scritti, abbiamo migliaia di libri che spiegano. l'altro giorno ho letto che si vuole distruggere l'essenza della Bibbia perché è l'ebreismo, bla bla bla. e io ho guardato questa cosa e io ho detto se tu distruggi l'ebreismo, tu distruggi tutto. perché sia che siamo tutti fatti nello stesso modo, creato dallo stesso creatore, viviamo nello stesso suo mondo, e che cosa volete fare? distruggere il mondo? distruggere il cristianesimo? distruggere i vostri santi? distruggere la nostra storia? che cosa volete fare? la cosa migliore da fare, nella mia piccola opinione, è di insegnare, è di avere dialoghi, è di parlare di cose che uno può capire meglio all'altro. Dio parla a Mosè per fare delle cose, parla al popolo, non perché gli piace, ma perché ci deve essere un insegnamento prima che una persona può diventare un'opinione. se io parlo con qualcuno, è di che cosa devo parlare? di cose che io so o di cose che non so? delle cose buone o delle cose male? in questa parola, in questa porzione, tezzavè, tezzavè è un comando, la parola, la radice è comando. e allora qui Hashem parla a Mosè, ma questa è l'unica parola, l'unica porzione dove non compare attualmente il nome di Mosè. perché? perché quando il popolo ha fatto il vitello d'oro e Dio voleva distruggere il popolo per quello che hanno fatto e hanno creato un idolo, la settimana prossima ne parleremo di quello. ma Mosè è andato un altro 40 giorni pregare a Hashem non distruggere il popolo e non di ascoltare le loro parole, azioni che stanno male. ma di sapere che questo è il suo popolo e la sua eredità e deve per favore deve assolutamente perdonare ma Mosè era un leader, un vero, l'unico vero leader del popolo e lui dice se tu non fai questo allora prendimi fuori del tuo libro Torah e sia che la parola di un tzaddik, di un giusto quando sempre, sempre, sempre va ascoltato da Hashem questa parasha non ha il nome di Mosè ma Hashem inizia così e tu comanda ai figli di Israele di recarti dell'olio di oliva puro pressata per illuminazione per accendere un lume perpetuo ma prima di questo, questo era solo l'inizio ma voglio iniziare con la sintesi come ogni settimana e dopo ne parliamo gli indumenti allora, la Parashat Teruma abbiamo messo insieme tutte le cose che hanno bisogno per il tabernacolo e il tabernacolo con tutte le cose, i kelim, le cose che hanno bisogno per i sacrifici è stato tutto fatto con una precisione perfetta e allora, adesso siamo al punto dove Hashem parla a Mosè lo fa comandare che gli indumenti quello che vanno a mettersi i sacerdoti e chi saranno ne parliamo adesso allora, gli indumenti Hashem impartisce a Mosè le istruzioni congenenti il confezionamento degli indumenti del Sommo Sacerdote e dei sacerdoti semplici che presteranno culto nel tabernacolo il Sommo Sacerdote indosserà otto indumenti le foz, il pettorale, la veste, il diadema, la tunica, il turbante e la fascia il vestiario del sacerdote semplice sarà invece limitato a quattro capi la tunica, la fascia, il copricapo e i calzoni 2. Il rituale di investitura Hashem istruisce Mosè sul rituale di investitura e renderà Aaron e i suoi figli sacerdoti per eternità Aaron è il fratello di Mosè e Aaron ha quattro figli Per eternità vuol dire che i figli dei figli dei figli della linea di Aaron di Nadav, Avio, Issachar e Pinchas saranno sacerdoti, sommo sacerdoti per sempre Allora, quello che è importante da capire è io lo so che non avete la minima idea che cosa sono queste cose e io non voglio entrare nel discorso che cosa sono sono ovviamente tunica e capricopo ma sono fatti in modo molto molto specifico e molto diverso e questo dovete leggere nella parasha ma il fatto è che niente si è cambiato se domani con l'aiuto di Dio verrà il Tempio che Hashem ci va a mandare a Gerusalem al Monte Zion dove deve essere tutto sarà uguale di quello che stiamo leggendo adesso allora voi mi potete chiedere ma noi non abbiamo il Tempio perché dobbiamo sapere queste cose ma a chi se ne interessa che questo è un pettorale e questo è il copricapo e come ma noi non abbiamo queste cose perché dobbiamo leggere, imparare perché anche se il Tempio tra virgolette non esiste da fuori ed è stato distrutto due volte la terza volta avviene direttamente ma il fatto è che il Tempio esiste il Tempio con tutte le cose che stiamo parlando quello sei tu quello sono io la responsabilità di imparare e di avere nella mente e ne parliamo in un attimo le cose che vuol dire la ragione o che qualche è la ragione per cui Hashem dice tu dovresti mettere calzoncini tu devi avere il diadema perché il diadema dice che tu sei sacro Hashem e ogni anima ebrea è sacro Hashem tu devi sapere che cosa sono gli indumenti sacri ok perché perché domani è possibile che tu lo devi sapere allora è meglio studiarlo oggi io voglio farvi vedere le cose favolose ok allora non lo so se va bene così no allora questo è il pettorale ok ok e questi sono esattamente Hashem ci dice come devono essere allegnati le le prezioni le i colori le pietre preziosi con i nomi delle tribù questo è il diadema e nel diadema è scritto Kadosh Hashem tu sei sacro a Hashem ogni cosa ogni cosa e questo è il nostro Humash di mamash favoloso veramente tutto è spiegato fenomenalmente bene il perché come vanno messo le cose perché sono messo così questo è il sotto della tunica deve essere un melograno e deve essere un campanello perché perché Hashem vuole che quando il sommo sacerdote cammina si sente e si sa che lui è vivo perché quando lui entra nel sacro dei sacri lui è da solo con Hashem e se lui non è puro e se lui non ha fatto le cose come si deve non uscirà fuori vivo quello che voglio dirvi è questo molto 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 importante molto importante si può pensare che Kadosh Ladonai quello che è scritto sul sul diadema è solo per il sacerdote siamo sacerdote ma non è così ognuno di noi è sacro a Dio perché è Dio che ha fatto la nostra anima e anche se il corpo se ne va l'anima torna l'anima vive ovviamente non tutti erano capace di fare questo lavoro e dovevano essere scelte dovevano essere scelte e Hashem ha scelto gli artisti e Kabbalah dice poi ha lavorato Bezalel Bezalel era il capo di tutti e ogni uomo di cuore saggio in cui il Signore ha messo saggezza e intelligenza disse Rabbi Shimon si può anche provare dal versetto e tu parlerai a tutti quelli che hanno un cuore saggio a colui che ha riempito con lo spirito di saggezza invece di a lui avremmo dovuto aspettarci a loro ma la forma singolare si riferisce al cuore che che ha riempito con lo spirito di saggezza come scritto e lo spirito del Signore deve riposare su di lui lo spirito di saggezza e comprensione per lo stesso motivo tra virgolette e tu è usato in tutti i casi che abbiamo considerato dice Rabbi Elazar come si intendono dunque tutti i passaggi che iniziano e tu perché in questa in questa porzione e tutto e tu non c'è Mosè allora e tu Rabbi Shimon rispose in questo modo e avvicinati a te Arone parlando a Mosè Arone il suo fratello per unire e unire a lui in modo appropriato il mistero del Santo nome e tu parlerai a tutti quelli che hanno un cuore saggio questo indica che nessuno di loro venne a compiere l'opera dei parametri di Arone prima che lo Spirito Santo parlasse in loro ordina ordinano loro di iniziare e santo a spiegarli affare che ha illuminato su di loro la sua luce affinché potessero compiere l'opera con tutto il cuore e prendi tra virgolette e prendi per te le spezie speciali e principali questo ha lo stesso significato e porti l'olio tutto quello è la stessa cosa e ti avvicini a Arone in effetti tutte le ripetizioni della frase e tu che si verificano in connezione con il lavoro del tabernacolo contengono questa implicazione per camminare nelle vie della verità allora mettiamolo in termini che possiamo capire anche se questo è molto molto facile da capire niente viene fatto da nessuno se Hashem non dice che verrà fatto in altre parole tu non puoi essere solo uno che scrive perché a te piace a scrivere tu sei un poeta perché Dio vuole che tu scrivi la poesia tu sei un ingegnere perché Dio vuole che tu sei un ingegnere tu sei una pianista una musicista un un capitano di una di una barca che ne so io hai capito non perché è una cosa che tu hai scelto perché attualmente è il compito della tua anima non è una cosa così perché quando tu hai bisogno per qualsiasi cosa che tu vuoi fare hai bisogno bisogno la saggezza e la comprensione per farla perché se tu non hai la saggezza e tu non hai la comprensione non fai niente e anche il niente è una cosa che ha deciso a scena noi pensiamo noi esseri umani pensiamo che noi siamo nel controllo di quello che facciamo e in tanti modi sì perché all'inizio c'era l'anima l'anima ha un compito non lo fai in questa vita torni torni finché tu fai il compito Rabi Shimon dice sempre della stessa parasha per camminare nella via della verità dai figli d'israele perché solo da lì è possibile l'unità perché i figli d'israele stanno qua giù come emissari dell'altissimo per aprire le porte per illuminare le vie per accendere lo splendore del fuoco celeste per attirare tutte le cose che stanno in basso vicino a quelli che sono in alto affinché tutto possa diventare un'unità perciò è scritto e voi che restate fedeli al Signore vostro Dio oggi siete tutti vivi Rabbi Shimon disse inoltre in tutte le cose c'è un avvicinamento per colui che sa come compiere l'unione e l'adorazione del Signore poiché quando il sacrificio è offerto nel modo dovuto tutti i gradi si avvicinano come una sola unità e la luce del volto è presente nel mondo nel santuario e l'altra faccia è sottomesso e coperto e il lato della santità regna in tutti come luce e gioia ma quando il sacrificio non viene offerto nel modo dovuto e l'unione non viene effettuata questo aspetto è coperto e la luce non è presente la luna è nascosta e l'altro lato regna e l'unione l'unione che ha l'unione del soncino Zohar esattamente parola per parola come è scritto che cosa vuol dire questa cosa? quando tu sei vicino a Dio non è che la tua vita è facile non ti devi aspettare che le cose vanno a cadere dal cielo sopra di te non vuol dire che vivrai a 120 anni ma vuol dire che tu hai il compito di fare quello che è il tuo affare in questa vita è una cosa bellissima è una cosa bellissima perché quando tu vivi con questa idea con questo sapere dentro di te che tu fai le cose per bene è che l'umanità che tu porti è una cosa voluta da Hashem ed è Lui che ti dà la possibilità di comunicare la musica, la poesia, la scrittura e tutto quello che noi abbiamo bisogno in questo mondo perché il mondo funziona allora ogni cosa sia che è stato creato da Kadosh Boku, da Dio e allora ogni cosa ha il personaggio per fare quello che è il compito come Bezzalel e tutti i personaggi che hanno lavorato con lui insieme per creare gli indumenti per creare il pettorale per creare i tumim e urim ok? per creare tutto quello che ha chiesto Hashem ci voleva specialisti ci voleva talenti ci voleva personaggi che potevano prendere le istruzioni di Hashem e con questo creare veramente quello che Lui vuole e perché lo vuole? è necessario per Lui che il diadema deve essere grande così e deve avere due pezzi di turchese e quando leggete i dettagli è fenomenale ok e allora la domanda perché? perché è così importante ogni piccolo dettaglio di questo tabernacolo di questi indumenti di del pane come si deve fare ma in tutto quello che è Torah in tutto quello che è scrittura in tutto quello che è i i i grandi della della nostra del nostro popolo i saggi loro non sono persone qualsiasi come tu non sei e io non sono perché siamo tutti noi tutti speciali ognuno di noi ha dentro un'anima e ogni anima fa parte di Dio e allora com'è possibile che non è speciale ma ci sono delle persone che invece di andare nella via del bene vanno nella via del male e oggi tante volte nello Zohar ma oggi penso c'è un discorso abbastanza importante perché noi viviamo in un in un in un pezzo di vita dove c'è tanta rabbia non ci capiamo non possiamo comunicare non abbiamo la facilità ma come esseri umani anche questo non è solo questo tempo questo era sempre e questo vuol dire che un essere umano ha bisogno di sapere quando lui si arrabbia che cosa aspetta a lui e allora ho deciso ed è in questa in questa parasha e allora io ho deciso di portare a voi questo insegnamento perché penso che è molto 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 importante il santo comanda all'uomo di guardarsi da quegli uomini che sono passati dalla via buona a quella cattiva e hanno contaminato le loro anime dall'impurità dell'altro lato perché quando il santo ha creato l'uomo l'ho fatto secondo il modello superno e ha soffiato in lui un alito santo costituito da una triade come già stabilito i cui diversi nomi sono nefesh ruach spirito e neshama anima il più alto è neshama l'anima poiché è l'energia superiore per mezzo dalle quale l'uomo può apprendere e osservare i comandamenti del santo ma quando lascia che la sua anima participe alla strana adorazione la contamina e si allontana dell'adorazione e dalle vie del suo signore poiché questi tre aspetti dell'anima superno e quando vediamo un uomo che possiede tutti e tre questi gradi non macchiati e fermamente una persona del genere possiamo tranquillamente associazioni associarci per imparare da lui il suo modo di vivere lui è un fedele servitore del suo maestro e si può tranquillamente associarci con lui dal suo carattere poiché dal suo comportamento quando è suscitato all'ira si può decernere il suo carattere se custodisce l'anima santa quando è adierata in modo che non possa essere sradicata dal suo posto e soppiantata dall'altra parte allora è davvero un uomo un servitore del suo signore completo lasciando che sia sostituita dal dominio impuro un tale uomo è un ribello contro il suo signore uno con il quale dovremo evitare contatti qualsiasi tipo perché lui è uno che come è scritto strappa la sua anima nella sua rabbia piange e sradica la sua anima nella rabbia incurante e permette a uno strano dio di ussuprare il suo posto dentro di lui e di prendere possesso di lui al suo posto così le parole smettila da un uomo la cui anima è lacerata dalla sua ira sono ovviamente le ingenuazioni ad asternarsi dal rapporto con lui e lacera l'anima santa e la contamina con la sua rabbia possibilmente di rinnovamento e santificazione per lui gli disse il rabbiose perché solo una possibilità di rinnovamento e santificazione e rabbiuda risponde considera questo quando un uomo sradica la santità della sua anima e viene quello strano dio al suo posto lo strano dio che si chiama impuro quel uomo si è inquinato e inquina tutti coloro con cui entra in contatto e la santità fugge da lui e una volta che la santità è fuggita qualunque cosa la persona possa fare in seguito non tornerà più al suo posto dice rabbi iosè eppure quanti si erano contaminato sono purificati sono purificati rabbiuda rispose ma l'ira a differenza dei peccati che inquinano solo il corvo inquina anche l'anima e appunto tutto l'essere in altre parole quando l'anima è inquinato l'essere non può nemmeno chiedere perdono quindi bisogna stare attenti a un tale uomo e osservare la festa dei pani azimi cioè il lato della santità interiore e non scambiarlo con altro lato per inquinare se stessi e gli altri perché pane azima e perché pasqua perché il popolo ebraico ha mangiato pane in egitto quando sono andati via hanno mangiato il pane del povero pane azimo dopo hanno mangiato il man il pane del cielo e una volta che tu hai mangiato il pane del cielo tutto quello che è la tua vita è infuso con lo spirito e con la bontà di Hashem noi mangiamo e dentro la parasha di oggi c'è il discorso il perché non fare Pasqua la nostra Pasqua come si deve e eliminare il lievito e male per sette giorni se tu non fai questo come si deve tu entri in questo in questa conversazione pane azimo è un purificante mangiare sette giorni di pane azimo vuol dire tu stai purificando tutto il lievito grande ego tutto quello che è superfluo nella vita tutto quello che è la tua come ti comporti e pensi chi sei non conviene non conviene perché non importa chi sei qui importa che cosa è la tua anima non importa quanti titoli hai in questa vita importa come è la tua anima messa insieme con il Kadosh Boko con Hashem con Dio noi abbiamo idee abbiamo pensieri abbiamo statuti abbiamo abbiamo quello che ci dicono gli altri ma noi abbiamo Torah e chi vive con Torah e chi vive veramente con la legge e per la legge e di cui la legge è dentro difficile difficile che va dall'altra parte ma si deve stare molto 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 attento molto attento di non mettersi con persone che hanno questa altra parte come parte del loro carattere e si deve veramente mettersi fuori e farli sparire della vita perché c'è altrimenti qualcosa ti può succedere e noi non abbiamo bisogno di questo abbiamo già abbastanza allora le persone che veramente fanno le cose mali o che sono malefici o che non sono onesti ti dicono io ti voglio bene e dopo prendono un pugnale nella schiena queste persone non hanno niente da fare con la nostra vita e Hashem è molto 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 buono perché lui ci manda i grandi saggi per spiegare queste cose perché così possiamo condividere e possiamo stare attenti perché quelli che vanno nella via di Hashem sono vivi oggi e allora c'è tanto da dire c'è tanto da fare c'è una ogni parasha ogni parasha che noi leggiamo ah quello è bellissimo è una parola di vita non è la personalità di Mosè ma la devozione del popolo a garantire la vicinanza di Hashem parlando con Mosè di fatto Hashem si presenta al popolo e quello vuol dire la frase che abbiamo abbiamo letto prima che ogni ebreo è un emissario in questo mondo e ha il compito di essere il veicolo essere il cheli essere il 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 la essenza perché Hashem può utilizzare a questa persona per i suoi scopi canti scrivi dipingi dipingi cucini tutto quello ogni cosa fa parte di questi compiti dopo una volta un Hasid si rivolse al Rabbi Naftali di Ropshitz quando questi era ancora un ragazzino e gli disse ti darò una moneta d'oro se mi saprai dire dove si trova Dio allora il fanciullo rispose e io te ne darò due se invece mi saprai dire dove non si trova Dio si deve dire un'altra cosa non è necessario vero perché quando tu capisci che tutto quello che fai è tutto quello che la Torah ti chiede e allora tu sai di dove viene tu sai perché tu lo fai e tu sai che il seguito sarà una vita dedicata al kadus bohu a Dio al shem e quando lui vuole che torna l'anima lui la prende ci sono quelli molto presto ci sono altri un po più avanti ci sono quelli che soffrono tutta la vita ci sono quelli che sono ammalati tutta la vita e non si capisce ma il loro lavoro è precisamente di essere quello in questo mese è stato un mese molto molto difficile per un carissimo amico non è un amico ma è una carissima persona un un rabino che si chiama roberto della rocca un grande rabino un un grande personaggio è il direttore della formazione cultura nella nella unione dei comunità ebraiche di italia dove ho fatto la settimana scorsa una una intervista se volete vederla potete andare alla pagina della uccei e sentirla ma 40 giorni fa lui ha perso il suo padre un personaggio enorme dal punto di vista insegnante rabino cantore a roma e tutta italia veramente un personaggio strepitoso mercoledì alla vigilia vigilia della festa di purin è morta la sua madre e settimana scorsa domenica c'era un una conversazione per i 30 giorni che è morto il papà e Rabde la Rocca ha parlato di di come erano la mamma e il papà e lui diceva che andavano sempre mano in mano e questa era una cosa che mi è rimasto molto 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 vividamente nella testa e quando quando lui mi ha scritto che la mamma se n'è andata io ho scritto non poteva essere diverso perché lui da solo non ce la fa lui ha bisogno accanto la sua anima gemella che andrà con lui anche lì mano a mano e così siamo noi con Hashem se noi andiamo mano e mano con Hashem noi non perdiamo la strada non perdiamo la strada e lui ci guida e anche se è un momento nella vita noi lo perdiamo lui ci dà l'opportunità di tornare ma ci sono delle cose come abbiamo sentito oggi che fanno dando all'anima e quando tu fai danno all'anima non si recupera è una cosa da pensare io vi auguro una buona settimana una settimana di luce abbiamo adesso finito la festa di Purim una festa importantissima e abbiamo un'altra volta visto come in un momento facciamo un po' cambiare tutto fede fede credere con profondo dell'anima nel bene nel fare il bene continuamente fare il bene anche se ci sono persone che fanno il male tu vai e fai il bene e alla fine mano a mano conoscendo allora carissimi amici una buona settimana benedizioni tanto 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 buona buona energia insegnamenti che è importante per la nostra vita per guidarci e con l'aiuto di Dio ci vediamo la settimana prossima ciao Shabbat 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 shabbat